Tutti i passaggi per il lancio di una collezione NFT sono davvero tanti, o forse no. In realtà, seguendo questo video, ti renderai conto che realizzare proprio tecnicamente una collezione NFT non è un qualcosa che richieda chissà quanto tempo. E dato che oggi, 17 febbraio, giorno in cui esce questo video, è anche il mio compleanno, ho deciso di fare io un regalo a voi, e per la fine di questo video potreste ricevere un NFT della mia collezione gratuitamente. Sì, hai sentito bene, quella parola che è proprio a noi italiani piace tantissimo. Gratis! Però resta fino alla fine perché la procedura è all'interno di questo video. Dopo più di un anno che porto contenuti sul mondo degli NFT, ma anche della blockchain in generale, ho deciso di lanciare la mia collezione NFT. Per prima cosa ho dovuto pensare al personaggio, il main character della mia collezione, e cosa poteva essere se non un'alpaca, animale con il quale sono in fissa ormai da parecchi anni. Sì, ok, tutto bello, ma se fosse dipeso dalle mie doti artistiche, l'alpaca sarebbe stata una cosa del genere. Per questo mi sono fatta aiutare da un'illustratrice e grafica. E grazie alla mia passione per quest'animale, ma soprattutto grazie alla sua bravura, l'idea della mia collezione NFT prendeva sempre più forma. Ed ecco che al personaggio principale andavano ad aggiungersi lo sfondo, il muso che è su un layer a parte, gli occhi anch'essi su un layer a parte, i vestiti e gli accessori. E pensate che questo che ho creato a schermo potrebbe non essere effettivamente un NFT della mia collezione. Avendo infatti molti più di 100 tratti divisi in 10 sfondi, 17 corpi, 23 musi, 25 occhi, 32 accessori e 23 vestiti, abbiamo un totale di 71.944.000 possibili combinazioni. E forse questa immagine che ho assemblato io non fa parte dei 10.000 NFT creati su quasi 72 milioni di combinazioni possibili. Finalmente era arrivato il mio momento, quindi ho preso il codice di Ashlips per la randomizzazione delle immagini e ci ho portato delle modifiche sulle esigenze specifiche che io avevo per la mia collezione. Per velocizzare i tempi, mentre la grafica lavorava a quella che sarebbe stata l'estetica del progetto NFT, io davo sfogo a tutte le mie doti di programmatore per realizzare ad hoc uno smart contract per la mia collezione. Questa è una cosa che spesso viene trascurata, ma in realtà lo smart contract è alla base di una collezione NFT, altrimenti le immagini sarebbero semplicemente dei PNG o dei JPEG. Poi mi sono messo a realizzare il sito web della collezione, con tanto di roadmap, utility spiegate e tutto il resto. Ovviamente anche con un link per andare alla minting d'app che serve poi a mintare un NFT. Se volete più informazioni potete visitarlo tranquillamente, però attualmente il pulsante che porta alla minting d'app è bloccato e vi rimanderà al mio server Discord. Adesso vi spiego anche perché. Avere solo delle belle immagini però non basta, infatti è fondamentale costruire una community solida attorno ad un progetto NFT e dare ad ogni singolo NFT anche delle utilità. così da non renderli delle semplici immagini immagazzinate in una blockchain. Infatti ecco qui uno dei tanti modi di dare utilità. Discord, uno dei social fondamentali in questo mondo, insieme a Twitter ovviamente. E se volete avere gratuitamente un NFT della mia collezione, andate qui sotto nei commenti e commentate con auguri. Dopodiché fate uno screenshot a questo commento, recatevi nel link qui sotto in descrizione che vi riporta al mio server Discord per questa collezione e successivamente mandate in questo canale che vi sto facendo vedere lo screenshot di questo commento e io vi fornirò subito il link per accedere alla minting d'app, ovvero un sito web dove poter entrare, collegare il proprio wallet di Metamask e mintare l'NFT. Quindi riceverlo poi sul proprio wallet di Metamask. Mi raccomando però in fretta perché dopo il 17 renderò il link disponibile per chiunque, quindi se dovessero finire non potrete più ricevere il vostro NFT gratuitamente. Per lanciare una collezione NFT possiamo appoggiarci a più blockchain. Abbiamo infatti Polygon, Ethereum, Solana, Binance e decine su decine ancora. Personalmente io ho deciso di utilizzare quella che mi sarebbe costata di più tra il deploy, ovvero il deposito del contratto in blockchain e le varie transazioni, ma anche quella più sicura, stabile e quella che contiene al suo interno la maggior parte dei progetti NFT di successo. Ethereum. Avendo scelto Ethereum l'unico costo che dovrete affrontare saranno delle gas fees, ma davvero davvero basse. Costo che non dipende da me e che purtroppo esiste per ogni singola transazione su qualsiasi blockchain, anche se alcune costano di più e alcune costano di meno. Però anche qui vi ho reso le cose più semplici. Infatti ho utilizzato un contratto ERC721A, dove le gas fees sono bassissime. Parliamo di 1 o 2 euro in alcuni momenti della giornata che voi state mintando un NFT o magari anche di più. E queste gas fees sono un costo da pagare a prescindere dal prezzo. Infatti anche se l'NFT non fosse stato gratuito, avreste pagato la cifra dell'NFT e anche le gas fees. Ora devo fare una premessa. Questo non è un consiglio finanziario e anche dopo questi primi 1000 NFT, quando gli NFT diventeranno a pagamento, anche se metterò pochi euro, io non potrò sapere come andrà la collezione. Quindi se mi volete sostenere quasi come fosse una donazione per il lavoro che faccio qui su YouTube, io vi ringrazio. Ma fate prima le vostre ricerche e soprattutto quando i primi 1000 NFT saranno mintati gratuitamente e quindi gli altri saranno a pagamento, non sentitevi in alcun modo obbligati a comprare uno di questi NFT. Ma fate il mint solamente se avete piacere nel farlo e se sapete tutti i rischi di questo mercato. Con un mio NFT all'interno del mio Discord potrete anche accedere a una sezione privata dedicata solamente agli holder, dove tramite un bot verificherete il possesso di un vostro NFT e poi avrete accesso esclusivo ad un canale dove potrete parlare direttamente con me. Magari avete qualche problema su un tutorial che faccio vedere io su YouTube e lì avrete accesso prioritario per parlare con me e risolvere questo problema. Anche se comunque in casa non aveste un NFT, io alla fine rispondo sempre a tutti prima o poi e infatti chi mi segue lo sa. Semplicemente in questo canale avrete la priorità. Inoltre ci saranno varie sezioni sul mio sito web con utility davvero interessanti, come ad esempio accedere con il proprio wallet e vedere a schermo tutti gli NFT posseduti dal tuo indirizzo, dato che spesso e volentieri la sezione NFT su Metamask almeno a me non funziona affatto bene e non posso mai vedere gli NFT che posseggo in quel momento. E ovviamente qualsiasi altro progetto che porterò avanti nel tempo lo aggiungerò come gli utility sul mio sito web. In caso la collezione vada bene, mi piacerebbe anche creare in futuro del merchandising da regalare gratuitamente magari tramite degli eventi su Discord. Ma questo si vedrà col tempo. Come avete visto, la mia intro iniziale era una provocazione. Realizzare un progetto NFT non è per niente una cosa veloce, ma ovviamente con passione, costanza e voglia di fare si possono realizzare progetti NFT che si differenzino dalle masse e che quindi potrebbero ritagliarsi il proprio spazio all'interno di un mercato che è in continua evoluzione. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi faccia piacere ricevere un mio NFT gratuitamente. Tra l'altro è tutto merito vostro perché ho deciso di regalare i primi 1000 NFT su 10.000 proprio in occasione dei 1000 iscritti raggiunti su YouTube. Tutto grazie a voi. E magari per i prossimi traguardi potremmo fare qualcosa di altrettanto interessante. Quindi voi iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per farle arrivare il prima possibile. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!